Era un problema informatico che aveva rallentato le comunicazioni ai positivi, ma adesso è stato risolto. Così la ASL risponde alle numerose segnalazioni dei cittadini che non riuscivano a rintracciare il risultato del loro tampone né sul portale della regione, né sul proprio fascicolo sanitario e neanche nella piattaforma GECOV. Il percorso di un tampone è complesso, precisa la ASL, inizia con la prenotazione, il secondo passo è l'accettazione e poi l'effettuazione. Qui finisce l'azione diretta del cittadino e prosegue quella della ASL. Il laboratorio di analisi, processa, valida e poi firma. A questo punto il cittadino sa ufficialmente se è positivo o negativo. Il problema è stato proprio qui, nella firma, per un problema di natura informatica adesso risolto. C'è poi la fase cosiddetta del tracciamento dei contatti stretti del positivo che ha avuto nelle 48 ore precedenti all'effettuazione del tampone. C'è da precisare anche che l'attività di valutazione del passaggio da positivo a caso richiede circa 45 minuti e per valutare invece la mole di lavoro della centrale del tracciamento c'è da precisare che ogni contatto richiede mediamente 20 minuti. Qualora un cittadino non vedesse il suo risultato potrà mandare un messaggio ad una mail che la ASL Toscana Sud-Est ha appositamente attivato. Il mio referto, chiocciola uslsudest.toscana.it, riservata in modo esclusivo a questo servizio, non potrà essere utilizzata per chiedere i referti. C'è infine un'ultima precisazione, forse la più importante. Si ricorda ai cittadini, scrive a ASL, che hanno effettuato il tampone, l'obbligo dell'isolamento domiciliare fino alla comunicazione del suo esito.